pps 118 misericordia di abetone rientro in sede dopo servizio gare allo via foto audio video mixer musica di walter giusti signori e amici tutti buona visione gara finita si rientra in sede tutto bene eh le mani si ora si apre tutto siamo lì a ripida discesa rientro in sede inizio della valbuia nella valbuia dell'abetone e ora si vede le piramidi i piramidi dell'abetone eccole una e due ora si curva e siamo sulla piazza europa è stata rivoltata due anni fa hanno cambiato il senso di marcia questo è finita la piazza europa ora siamo davanti alla casina la chiesa dell'abetone ristorante albergo la primulata l'abetone la strada bella pulita bps 118 abetone misericordia di pistoia ecco occhio alla curva siamo arrivati siamo arrivati cultura benessere e malattia e il virus deve andare via ci fa una sega e il virus ora mettiamo a marciare indietro siamo arrivati coronavirus ma chi ce l'ha ciao ciao Walter e Daniele iscriviti al canale ciao Grazie a tutti.